È il piacere di collaborare con Italia Nostra, che è un soggetto che svolge un ruolo civile molto importante, civile e culturale. A me è interessato molto questo accostamento che avete fatto tra paesaggio e identità, perché sono due termini non solo di valore costituzionale, sicuramente, ma perché entrambi hanno un aspetto in comune. Non sono dei dati, né il paesaggio è un dato, né l'identità è un dato, ma sono dei processi, sono dei processi evolutivi che quindi ci costringono a collegare il passato al futuro attraversando il presente. Vorrei mettere al centro di questo nostro incontro questa visione processuale, cioè sia il paesaggio che l'identità non sono qualcosa scritto nella pietra, ma sono qualcosa che si costruisce, che si trasforma nel tempo e che quindi pone, come tutte le trasformazioni, il problema del governo di queste cose. Adesso io mi avvalgo di qualche slide, le farò scorrere rapidamente perché il tempo non è molto e quindi non voglio abusare, diciamo, di questo. Ecco dove stanno, scusate, le sto cercando. Eccolo qua, eccolo qua, spero che si veda bene. Adesso metto anche la presentazione, no? Paesaggio, territorio, ambiente, identità, sono appunto termini che sembrano problematici, diciamo, il loro rapporto, ecco, parleremo di questo. E comincio con due citazioni, tanto per entrare in tema. Questa è una bellissima espressione di un sovrano ottocentesco, il granduca di Toscana Pietro Leopoldo di Lorena, che faceva ancora parte di quella schiera di governanti di derivazione illuministica, che per governare i territori volevano prima conoscerli. Ecco, e viaggiando, diciamo così, per questa regione che lui conosceva poco, si lascia andare a questa descrizione, no? Dice, un territorio bello, ricco, con le amene colline verso mezzogiorno, ove la terra molle lieta e lusinghiera, cioè appunto che gli piace, simili a sé gli abitatori produce. Cioè, un certo tipo di paesaggio, come dire, no? È come se si trasferisse anche sull'indole, sul modo di essere, di comportarsi delle persone. Facciamo un salto, diciamo così. Questo è più noto. Benedetto Croce, uno dei più grandi filosofi del Novecento italiano, che è stato anche da politico nei primissimi anni venti, prima della parentesi del ventennio fascista, il promotore della prima legge per la tutela del paesaggio e delle bellezze, si chiamava appunto per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. Siamo proprio alle origini della legislazione che poi sfocerà nelle leggi del 1939, poi nella Costituzione italiana e poi nel Codice dei beni culturali del paesaggio. Diceva lui il paesaggio perché era la prima volta che lo Stato interveniva su questo tema, no? Allora dice perché aveva la necessità di spiegarlo e nella relazione che lui fa al Senato di questa nuova legge dice sì, ha senso l'intervento dello Stato, anzi è legittimo, è doveroso, perché il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della patria. E qui chiaramente già possiamo sottolineare la relazione tra paesaggio e identità. Il paesaggio come espressione di identità, in questo caso di identità della patria, con i suoi caratteri fisici, con gli oggetti molteplici e vari del suolo, che si sono formati e sono pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli, appunto, quella dimensione processuale a cui facevo riferimento. Ecco, allora io vi do alcuni spunti, diciamo così, ovviamente ciascuno di questi meriterebbe un incontro specifico, però intanto il paesaggio è qualcosa che si forma nel tempo. E come si forma? Ecco, si forma attraverso quello che noi chiamiamo, ringrazio Anna Di Gregorio per la presentazione, tra le cose che ha detto c'era anche la mia appartenenza alla Società dei Territorialisti, cioè una scuola, potremmo dire, una linea di ricerca che cerca di mettere il territorio al centro e che cos'è il territorio? Ecco, perché il territorio è l'esito di un processo che noi chiamiamo di territorializzazione, cioè quel processo che trasforma lo spazio naturale, che esisterebbe anche a prescindere dalla presenza umana, in qualcosa di organizzato, in qualcosa di diverso che noi chiamiamo appunto territorio, dallo spazio al territorio. E il territorio ha una sua dimensione visibile costituita dal paesaggio. Qui già abbiamo introdotto questi tre termini, spazio, territorio, paesaggio. Ecco, allora come avviene questo processo di territorializzazione? Avviene attraverso l'intervento antropico, l'intervento umano sulla natura. Il primo strumento di territorializzazione sono stati l'agricoltura e l'allevamento. Alle origini, dietro a queste due grandi attività ci sta l'esigenza fondamentale dell'umanità che è quella di nutrirsi, dunque la necessità di nutrirsi finisce per produrre un paesaggio attraverso l'esercizio dell'agricoltura. Su questo ritornerò. Naturalmente l'agricoltura non è l'unico strumento di territorializzazione e quindi di produzione di paesaggio, perché poi arriveranno le città, poi arriveranno le infrastrutture, poi arriverà l'industria. Cioè appunto viene delineandosi quella definizione ormai condivisa di paesaggio come l'incontro tra natura e uomo, tra le componenti naturali e le componenti antropiche. E questa è la fase di formazione, la fase di costruzione, il processo di costruzione del paesaggio. Oggi per noi naturalmente questo processo continua, è incessante, l'ho detto, dura da quando c'è l'uomo sulla terra e durerà ancora finché ci sarà l'uomo sulla terra, questo incontro problematico ma fruttuoso tra uomo e natura. Oggi però la fase è ancora un'altra, è quella di un paesaggio costruito nei secoli, quindi frutto del processo storico, che diventa patrimonio. E patrimonio vuol dire qualcosa che ha valore, qualcosa che vale appunto. Ecco, allora questi sono i tre punti che trattenerò diciamo in questo incontro, dallo spazio al territorio, l'agricoltura come primario strumento di territorializzazione e il paesaggio che diventa patrimonio. Ecco, qui vediamo appunto i segni, i segni dell'attività umana, delle attività umane sul territorio e aggiungo un'altra citazione perché questa è abbastanza nota perché sta nell'Ojo degli uccelli che sta nelle operette morali di Giacomo Leopardi, il quale scrive un lungo brano su cos'è il paesaggio, eccetera, ma sostanzialmente lui dice, magari lo dice salendo su quella torre, su quella torre che è la torre di Recanati, insomma forse immaginare sarà la torre del passero solitario, insomma, ma in ogni caso lui guarda il paesaggio e dice quello che noi vediamo naturale non è, ma è piuttosto artificiale, è cosa artificiata e diversa molto da quella che sarebbe in natura e passa a fare degli esempi, no? Dice perché gli alberi disposti in filari, i campi che hanno forme geometriche, ecco queste non le ha fatti, i fiumi, i corsi d'acqua raddrizzati nel loro corso, gli argini, ecco come si vede quindi c'è questo incrocio tra uomo e natura che è molto, allora arriviamo alle definizioni di oggi, ecco non insisto sulle definizioni perché il paesaggio si dice che è una parola polisemica, cioè che ha molti significati, quindi molte definizioni e non è il caso, vedete però facciamo riferimento però alla, come si può dire, al documento normativo fondamentale nel quale ci riconosciamo per il paesaggio che è la convenzione europea del paesaggio, sottoscritta nel 2000, poi ratificata dall'Italia qualche anno più tardi e dice il paesaggio è una determinata parte di territorio così come percepita dalle popolazioni, dunque introduce l'elemento della percezione, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani dalle loro interrelazioni. Se noi prendiamo il codice dei beni culturali del paesaggio, approvato, emanato nel 2004, poi modificato nel 2008, dice per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva ancora dall'azione di fattori naturali e umani dalle loro interrelazioni. Vedete che tra la convenzione europea e il codice dei beni culturali italiano, la differenza è che la convenzione europea insiste sul termine partecipato della percezione, mentre invece il codice dei beni culturali introduce al posto della percezione proprio la parola identità, territorio espressivo di identità. Se io leggo un paesaggio è come guardare il volto di una persona, quella è la sua identità. E però forse queste sono definizioni, diciamo così, un po' normative, dunque un po' burocratiche, se volete, un po' amministrative in un certo senso, mentre la definizione forse più bella, più pregnante che io cerco sempre di adottare è quella che scrisse molti anni fa, 60 anni fa, Emilio Sereni in un testo classico, la storia del paesaggio agrario italiano. Italia Nostra era nata da pochi anni, anzi possiamo dire che Emilio Sereni scrive negli stessi anni in cui nacque Italia Nostra. Italia Nostra nasce nel 1955, la storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni esce nel 1961 ma un po' a scoppio ritardato per vicende editoriali varie, lui l'aveva scritta appunto a metà degli anni 50 e scriveva che il paesaggio è il farsi di una certa società in un certo territorio. Ecco il paesaggio come specchio, cioè il paesaggio ci offre una possibilità di lettura che non è soltanto lettura del territorio, ma è anche lettura della società in cui viviamo, delle sue forme organizzative, delle sue lotte, diceva Sereni, delle sue inquietudini, dei suoi sistemi economici. Ecco, dunque questo mi serve per dire una cosa che avrei voluto dire subito all'inizio, che il paesaggio non è solo ciò che si vede. Quello è il panorama. La nostra lingua ci ha dato due parole, infatti, per distinguere. Il panorama è, come dire, la veduta, la cartolina, è la dimensione estetica del paesaggio. Il paesaggio invece è qualcosa di più, è l'insieme delle relazioni e delle funzioni che quel territorio esprime, ha avuto, diciamo così. Ecco, e appunto il fatto che il nostro codice metta insieme beni culturali e paesaggio è molto significativo, perché appunto ci fa vedere questo insieme che costituisce patrimonio, il patrimonio culturale, dice il codice. Dunque, il paesaggio non è solo ciò che si vede. Un mio collega molto bravo, Carlo Tosco, uno storico dell'architettura, ha scritto che, in un libro che poi ho messo in bibliografia alla fine di queste slide, che il paesaggio è una risorsa apicale, cioè una risorsa che consente di leggere tutte le altre risorse. Dunque, se io leggo il paesaggio di un territorio, non mi parla soltanto di cos'è quel territorio in quel momento, mi parla anche delle trasformazioni storiche che il territorio ha subito per arrivare fin lì, e a guardarlo bene mi parla anche delle potenzialità e delle prospettive di quel territorio. Ecco perché, ecco la visione processuale, ecco perché studiare il paesaggio ha un senso, ha un valore civico, ha un valore culturale, ma anche un valore politico alla fine, perché mi consente appunto di proiettare in avanti questa visione del paesaggio come processo. Emilio Sereni diceva una prassi di generazioni, cioè appunto che lui pensava prima di tutto alle generazioni degli agricoltori, vedete che si trattasse degli agricoltori primitivi con una zappa in mano, o degli agricoltori moderni con le macchine e gli alti consumi energetici, in ogni caso l'agricoltura per produrre cibo finisce per produrre paesaggio. E questo è come se, insomma, per renderla figurata questa cosa, è come se gli agricoltori nei vari tempi con le loro zappe, le loro falci, i loro aratri, poi le loro macchine, le loro vanghe, eccetera, avessero disegnato sul territorio un paesaggio, avessero tracciato dei segni, proprio come se fosse un album da disegno appunto, spesso indelebili e comunque anch'essi poi suscettibili di trasformazioni. A Monte c'è appunto che cosa? C'è l'esigenza alimentare dell'umanità, delle popolazioni, insomma. Infatti didatticamente funziona molto bene questa slide, se volete usatela pure, perché funziona molto, cioè partire da ciò che si mangia per arrivare al paesaggio. Che paesaggio hai nel piatto? Cioè che consapevolezza abbiamo noi, che consapevolezza hanno i nostri ragazzi soprattutto, di immaginare il paesaggio corrispondente a quello che stanno mangiando in quel momento. Cioè se io mangio pane e olio, per dire, per fare riferimento alla prima immagine, che capacità ho di immaginare nella mia testa un oliveto, un campo di grano? E così via, se la carne è un pascolo, una stalla, se il vino è una vita, eccetera. Ecco, guarda, questo nella civiltà urbana consumistica di oggi, questo legame si è spezzato molto, si è spezzato molto e quindi ricostruire questo, partire dal cibo è un modo per dare concretezza anche ai nostri ragionamenti sul paesaggio, che altrimenti potrebbero sembrare temi, diciamo così, da esperti, da specialisti, da condeni. Ecco, invece c'è il cibo, poi c'è il modo di riproduzione del cibo e poi c'è il paesaggio appunto che si forma in questo modo. Si forma trasformando gli elementi ambientali fondamentali, che sono la vegetazione, che sono le acque, che è il suolo. In questa immagine ho messo questi tre cerchi con le stesse dimensioni, ma evidentemente le dimensioni sono variabili. E cos'è che li fa variare molto? È l'entità della popolazione umana. Questo vale sia per il mondo, ma vale anche per un singolo paese, per una regione. È evidente che quando la popolazione cresce l'area coltivata tende nella storia ad allargarsi e siccome la terra è finita si restringono le altri due, cioè la superficie si allarga disboscando e bonificando gli specchi d'acqua. Adesso oggi siamo in una situazione un po' diversa e un po' paradossale rispetto al corso storico, perché siamo in una fase in cui la popolazione sta crescendo a livello planetario e la superficie coltivata si sta restringendo. Questo è avvenuto anche in Italia, ma su questo non voglio insistere troppo. Ecco, allora ci sono i quadri ambientali che sono importanti. Io ho parlato finora dell'intervento dell'uomo, ma la natura è anch'essa soggetto storico, non è soltanto il contenitore inerte delle nostre azioni. Quelli italiani sono quadri ambientali molto differenti tra di loro, quadri ambientali differenti che significano una agricoltura differente e quindi noi non abbiamo un paesaggio italiano, ma tanti paesaggi. Il paesaggio conferma la natura plurale di questo nostro paese. Naturalmente la trasformazione storica ha molto modificato i paesaggi. Siamo passati da un'agricoltura ad alta intensità di lavoro ad un'agricoltura invece a bassa densità di lavoro che ovviamente produce impatti diversi sull'ambiente e dunque anche un paesaggio differenti. Tra l'altro in Italia si evidenzia bene questa diversità per esempio tra il nord e il sud e tra il processo storico che ha caratterizzato l'intervento umano nel mezzogiorno e quello invece del centro nord dove la presenza delle città, la vicinanza del potere hanno determinato un certo paesaggio, è invece quello del sud dove la persistenza del latifondo e soprattutto della feudalità che è arrivata fino all'età contemporanea, praticamente fino all'ottocento, con un potere statale lontano ma un potere feudale vicino, ha significato un paesaggio diverso, quello appunto del latifondo, delle culture estensive, delle agricolture senza casa, della popolazione concentrata nelle grandi borgate. Ecco, adesso quindi c'è una corrispondenza tra sistemi agrari e paesaggio. L'Italia, le Italie agricole, anche qui di nuovo vedete il plurale, ha determinato paesaggi diversi a seconda che si parli del sistema mezzadrile dell'Italia centrale, potere e fattoria, oppure di quello più capitalistico della pianura padana, la cascina, oppure quello appunto del latifondo in gran parte del mezzogiorno, non in tutto il sud, ma in gran parte sì. Ecco, a seconda di quale sistema agrario si afferma, anche i paesaggi sono molto diversi. Lo riscontriamo anche nella tipologia delle case contadine, vedete questa qui, guardate solo la varietà di colori in questa carta dell'Italia, che sta a significare una molteplicità di tipologie abitative. Anche le case sono segni paesaggistici, non solo i campi coltivati, ma anche le case. Poi se si fanno le case bisogna fare delle strade per arrivarci e poi magari lungo quelle strade si piantano dei filari di alberi. Tutti questi sono segni paesaggistici. Sono segni paesaggistici che appunto Emilio Sereni nel suo libro Storia del paesaggio agrario italiano ha raccontato praticamente dall'età greca, anzi dall'età etrusca, dall'età sannita, dall'età preromana fino al tempo in cui lui scriveva. È uno dei libri di storia secondo me che ha avuto più successo, perché continua ad essere ristampato a 60 anni di distanza, credo abbia superato le 20 edizioni, insomma un libro ecco così. E cosa dice? Eccolo qui, dice Sereni, il paesaggio è la forma che l'agricoltore imprime al paesaggio naturale, è una prassi di generazioni, lontane o vicine che siano. È un fare o un farsi, piuttosto che un fatto. È quello che dicevo io all'inizio, un processo e non un dato, appunto, così eccetera. Come l'agricoltura produce paesaggio? Lo intuite facilmente, questa slide vi offre la possibilità di andare a vedere quali sono le principali relazioni. È evidente, no? Alcune, se io scelgo una determinata cultura piuttosto che un'altra, se faccio il grano o pianto un oliveto, produco un paesaggio diverso. La trama dei campi, la morfologia agraria, quella che si osserva dall'alto guardando qualsiasi porzione di territorio, la sistemazione dei terreni, le tecniche di lavorazione, le pratiche di allevamento, a seconda se è transumante, se è stabulato, se è brado e così via. I fabbricati rurali e le forme dell'insegnamento. Insomma, tutte queste cose, segni, segni. Pensate a quella metafora che è usata, a quella comparazione tra le zappe, le vanghe, le falci e le matite che disegnano. È un po' questo che è avvenuto e che produce. Appunto, i paesaggi zootecnici sono tutti quelli che riguardano l'allevamento degli animali e poi ci sono i paesaggi dell'acqua, i paesaggi delle bonifiche. L'Italia, come vedete dalle zone rosse, è un paese in gran parte costruito sottraendo territorio all'acqua. Paludi, stagni, laghi, che sono stati bonificati soprattutto in età moderna, dal 500 in avanti, ma soprattutto dal 700 in avanti, quando appunto l'aumento demografico e poi nell'Ottocento anche un approccio più igienista, diciamo, eccetera, per rendere più sano, salubre l'aria, porta a bonificare tutte queste terre che qui sono una patria artificiale, diceva Carlo Cattaneo appunto a seguito di questa lunga guerra delle acque. Però le campagne sono punteggiate. Il paesaggio italiano è un paesaggio che esprime l'identità di un paese policentrico, storicamente e strutturalmente policentrico. Non è soltanto le cento città, le città poi erano più al centro nord che al sud, ma è soprattutto l'Italia dei paesi, appunto un paese di paesi, come si intitola anche un libro che ho pubblicato pochi negli ultimi anni, perché appunto questi sono veramente i nodi di una rete. Fate conto che il paesaggio è la rete, è lo sfondo e i paesi sono i punti cardine. Qui sono prevalentemente paesi molisani, perché è la regione dove lavoro e alla quale mi sono molto affezionato studiandola, insomma. E vedete che sono paesi anche, come dire, pietra abbondante, pietra cuba, castelpetroso, che anche nel nome comportano i segni di questa pietra, di questa rugosità in qualche modo. Il problema qual è? Il paesaggio è un mosaico, certamente è un mosaico, lo dicono tutti quelli che hanno studiato il paesaggio, ma nel nostro tempo, nella seconda metà del Novecento, è un mosaico che ha cominciato a chiudersi. Questa immagine è ancora un mosaico, ma se io, questa immagine l'ho scattata io qualche mese fa nelle colline del Molise che guardano verso l'Adriatico, se io questa foto l'avessi scattata 40 o 50 anni fa, le tessere del mosaico sarebbero state molte di più. E se io la scattassi tra 30 o 40 anni, se continuassero i processi attuali, probabilmente le tessere scompariranno e tutto tornerà ad essere un verde uniforme, senza più quell'incrocio tra attività umane e spazio naturale. È il paesaggio dell'abbandono, è il paesaggio dell'esodo rurale. Sapete che negli ultimi cento anni in Italia la superficie forestale è triplicata e la superficie invece coltivata si è progressivamente ridotta. E qualche anno fa, mi sembra nel 2020, per la prima volta nella storia la superficie forestale italiana ha superato la superficie agricola, la superficie coltivata. c'è, diciamo, perché? Perché? Cos'è successo? Ecco, cos'è successo? Vediamo un grafico e poi mi avvio a concludere perché sono già vicino alla mia mezz'ora che mi è stata concessa per questo incontro. Cos'è successo? Questo grafico è abbastanza semplice, è praticamente l'andamento della popolazione italiana addetta ai tre settori economici fondamentali dall'unità d'Italia a oggi. La linea blu è quella dell'agricoltura, la linea gialla è quella dell'industria, la linea rossa è quella dei servizi. Vedete che tra il 1950 e il 1970 si costruisce una forbice, no? Avvengono dei sorpassi. Tra il 50 e il 60 la linea dell'industria supera quella, incrocia e supera quella dell'agricoltura, che equivale a dire che l'Italia diventa da paese contadino paese industriale, ma per poco, perché poco dopo la linea rossa, quella dei servizi che già aveva superato quella dell'agricoltura, supera anche quella dell'industria, altra forbice. E quindi questo è un grafico, ma noi dietro a questo grafico ci stanno le trasformazioni paesaggistiche del paese. Ancora una volta, come diceva Sereni, il paesaggio è lo specchio della società, una società che diventa industriale, consumistica, urbana. Questo però è stato anche un problema, perché noi abbiamo adottato un modello di sviluppo polarizzante, sui centri urbani, sui centri commerciali e su qualche tratto di costa, in un paese che, come ho detto prima, invece è strutturalmente policentrico. Quindi abbiamo abbiamo rafforzato i centri e marginalizzato invece gran parte del territorio, le campagne e i paesi. Questa è stata un po', l'esodo rurale appunto. Allora questo abbandono del territorio è un problema, è un problema, ce l'ha detto anche il Covid, ci siamo concentrati troppo, abbiamo ampi spazi vuoti, con tanto spazio a disposizione, poi abbiamo le città congestionate, cementificate, abbiamo comuni in Italia dove la densità demografica è di 10 o 15 abitanti per chilometro quadrato e abbiamo comuni dove la densità è invece di 8.000, 9.000, talvolta 10.000 abitanti per chilometro quadrato. E questo è un problema. Allora appunto questo processo di abbandono del territorio, che ha significato anche una trasformazione paesaggistica, ci porta a chiederci che cosa è rimasto. Che cosa è rimasto? Vabbè, questa immagine forse la avete riconosciuta, qui siamo nell'Appennino Emiliano e quella è la pietra di Bismantova. Cosa è rimasto? Ecco, a questa domanda spesso si risponde che non è rimasto niente. Non è così. Il paesaggio ci serve per leggere il patrimonio territoriale, cioè quello che è rimasto appunto. Qui ho messo una definizione. Cos'è il patrimonio territoriale? È l'insieme di tutto quello che vale appunto, che ha valore. Qui è abbastanza articolata la sua composizione, però se vogliamo semplificare, l'ho sintetizzata in queste tre P, i paesi, frutto dell'insediamento umano plurisicolare, i prodotti, l'espressione appunto dell'esigenza della coltivazione come risposta alle esigenze alimentari e poi il patrimonio culturale e ambientale inteso in senso lato, la struttura agroforestale eccetera. Paesi, prodotti, paesaggio. Ecco, io credo che questi tre assi sono effettivamente una guida non solo all'educazione civica, alla coscienza del territorio, alla coscienza di luogo, ma anche al concetto della sostenibilità appunto. Dunque allora il paesaggio è fisico e percepito. Il paesaggio esiste perché si guarda, perché si vede. D'altra parte ho detto che questo tema della percezione è inserito nella Convenzione Europea del Paesaggio, però vedete che uno studioso come Aldo Sestini, geografo che scrive quel bel libro sul paesaggio italiano nel 1963, dice l'immagine da noi percepita di un tratto di superficie terrestre. Dunque il tema della percezione non è che l'abbiamo inventato con la Convenzione Europea del Paesaggio. L'Italia, diceva Sestini, possiede una grande varietà di paesaggi, non esiste un paesaggio italiano. Esistono tanti paesaggi, come ho detto. Sereni diceva così, che questo legame tra società, paesaggio e patrimonio culturale, fino all'articolo, appunto fino alla patrimonializzazione, cioè al riconoscimento del paesaggio come qualcosa che ha valore e che quindi deve essere al tempo stesso. Conosciuto, tutelato, valorizzato. Guardate bene alla successione di queste tre parole, perché non ci può essere tutela senza conoscenza e non ci può essere, anzi non ci deve essere valorizzazione senza tutela, perché la valorizzazione senza tutela significa la dissipazione delle risorse per le generazioni future, quindi il contrario della sostenibilità. Cioè voglio dire, faccio un esempio banale, se io ho un bel paesaggio e ci costruisco delle belle villette a schiera, certamente nell'immediato valorizzo, però quella risorsa poi io non ce l'ho più e quindi ho valorizzato senza tutelare, vuol dire che ho dissipato una risorsa. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano, dice il codice, i valori che esso esprime come manifestazioni identitarie percepibili. Qui torna insieme l'identità e la percezione, perché l'identità non è solo ciò che siamo, è anche come qualcuno ci vede, insomma, e quindi manifestazioni identitarie percepibili, appunto è l'articolo 131 che definisce il paesaggio nel codice dei beni culturali. E quindi il paesaggio da semplice rappresentazione dell'estetica, come magari era ai tempi di croce, appunto non parlava di paesaggio ma di bellezze naturali, diviene un bene, un patrimonio, cioè un bene da tutelare, un deposito di identità, uno specchio, come avrebbe detto Sereni, delle trasformazioni e delle potenzialità del territorio. Ecco, l'approdo è, il riferimento fondamentale è l'articolo 9 della Costituzione e con questo chiudo, però è molto importante che i nostri costituenti abbiano messo, non in un articolo qualsiasi, ma tra i principi fondamentali, i primi 12 articoli dell'articolo 9, tra i primi 12 è appunto l'articolo 9 nel quale si dice la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, eccetera, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Adesso nel 2022, diciamo nel silenzio generale, per la prima volta nella storia della Costituzione italiana è stato modificato un articolo dei principi fondamentali, proprio l'articolo 9, è stato modificato inserendo, come vedete nella parte sotto, inserendo oltre alla tutela del paesaggio, la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e anche un accenno, diciamo così, alla tutela degli animali. Tutto bene, sembra, no? Dice, ma beh, non se ne è discusso, è passato nel silenzio, il Parlamento l'ha votato all'unanimità, quindi che problema c'è? E i problemi invece stanno emergendo, perché questa modifica sta mettendo l'ambiente contro il paesaggio. che invece dovrebbero essere integrati, sta mettendo l'ambiente contro il paesaggio, faccio un riferimento a un passant, poi se volete ci torniamo, a tutto il tema delle energie rinnovabili, per esempio degli impianti fotovoltaici, degli impianti eolici, che soprattutto nel centro-sud dell'Italia stanno fortemente incidendo sul paesaggio. Dunque, questa modifica recente è una modifica problematica, però noi abbiamo, diciamo così, una Costituzione che ci obbliga a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. A me pare che ciò non sia sempre avvenuto. Grazie. Grazie.